Grande festa al palazzetto per i 40 anni di basket a Vaiano. Tribune sold out con la presenza di tutti i bambini del centro mini basket presenti insieme ai genitori e ai tecnici. Il nuovo centro mini basket Val di Bisenzio raccoglie l'eredità della storica CDP Vaiano ai tempi d'oro targata FTI. Dal 1982 al 2022, 40 anni di storia per il basket a Vaiano. Questi 40 anni hanno visto tante gioie, tanti successi. Ora dopo qualche anno un attimo di stand by per via dell'epidemia da Covid ora si cerca di ripartire nella maniera migliore possibile con un gruppo dirigente rinnovato ma ancorato ai vecchi valori e cercando di rimpolpare sempre di più quelli che sono i numeri del mini basket perché quella è la linfa e poi ci dà l'energia per le nostre prime squadre e per il nostro settore giovanile. Giocatori di riferimento del decennio di massimo splendore per il sudalizio vaianese Stefano Gori, Alessio Torracchi, Luca Magni e Paolino De Angelis insieme a Luca Saccenti. Tutti presenti al palazzetto per la grande festa vaianese. Al timone della prima squadra ci fu il compianto Sandro Grossi che raggiunse addirittura la promozione in C1. Abbiamo la fortuna di aver avuto grandi campioni qui a Baiano, una realtà nata dal niente, si giocava al campino all'aperto, poi ci siamo spostati al palazzetto e la forza di alcune persone come Marzio Magni, Giancarlo Mengoni, il presidente Franco Mancini sono riusciti a portare qui grandi giocatori e speriamo di continuare a fare in futuro un lavoro di qualità. Adesso la nuova società ha una prima squadra in Serie D allenata da Giulio Gambassi, una squadra nel torneo Wisp e quattro squadre under, oltre a quattro squadre affiliate al mini basket. Si cerca di coinvolgere i ragazzi anche nelle attività interne, nella palestra, abbiamo un gruppo di tifoseria capitanato da alcuni ragazzi. Tutti i nostri allenatori sono giovani, si va dal più vecchio che ne ha 34, al più giovane che ne ha 20, la maggior parte è cresciuti qui e hanno radici qui come giocatori e poi come allenatori. Il legame fra la società e la vita di ognuno di noi è qualcosa che ci portiamo dentro e che si sono portati dentro tutti coloro che sono passati da qui.